Pregiatissimi clienti, pregiatissimi estimatori da tutto il mondo, la nostra famiglia da tre generazioni vive su quello che sono queste colline terrazzate, lavora su queste colline terrazzate, i colli orientali del Friuli, le ultime colline friulane che guardano la Slovenia. Da qui è doveroso un messaggio di qualità legato a tutti questi grappoli raccolti a mano, a tutte queste lavorazioni che vengono fatte manualmente, che esprimono un livello qualitativo sempre alto. Le abbiamo voluto portare a voi con l'uscita delle prossime vendemmie in quello che è tunella autentica arte di collina, al vostro giudizio e alla ricerca di chi come noi vuole sempre migliorarsi. Grazie.